Allora loro si chiamano Raph, Luca e Pierre, sono i tre protagonisti, sono una band che è nata ed è diventata famosa su Youtube Hanno più di 30 video all'attivo con oltre 250.000 visualizzazioni E molti già li conoscono, ve li presentiamo direttamente, loro sono il Circolo delle Farfalle Sì, 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 allora questa sera con noi anche Angelo Nobili al basso Anche se siamo solo in live è carino portarsi il bassista E niente, innanzitutto iscrivetevi al canale Youtube che per noi è veramente molto importante Un piccolo gesto per una grande cosa, per noi Siamo qui per parlare ai giovani, per dirgli che gli animali devono avere gli stessi diritti di tutti Speriamo che non ci sia più bisogno di dirlo tra qualche anno E vi facciamo ascoltare quattro canzoni, un po' ritmate Quindi se facciamo troppo casino allontanatevi, se vi piace avvicinatevi Insomma facciamo un po' come ci pare Insomma facciamo un po' come ci pare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti